Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 29 gennaio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Lavoro, pensiero o realtà, anche di lunedì. Sarà perché siete fissati con il successo o perché sono gli astri del giorno a condurvi ci per mano, sta di fatto che anziché rilassarvi questa lunedì spendete tutte le vostre energie al servizio della professionalità e della carriera, proponendovi come volontari per un impegno extra o assumendovi di buon grado incombenze che spetterebbero ad altri colleghi, magari malati o in permesso speciale. Smania di riuscire e di emergere, insomma, come segnala Giove ambizioso allo Zenit, per giunta intrigono con venere che nella seconda casa dell'oroscopo vi parla non solo di guadagni, ma anche di soddisfazione personale, informazioni e conoscenze utili, il famoso fieno in cascina, che si accantona in vista di un bisogno futuro. Il tempo che vi avanza oggi lo dedicate a voi stessi, a qualche coccola per il corpo, dieta rigorosamente vegetariana, una lunga dormita e tanto relax, magari ascoltando buona musica o visionando una mostra d'arte, perché la bellezza. Chiama altra bellezza. Nel rapporto di coppia è in atto una trasformazione, un cambiamento. Non è detto che questo debba essere necessariamente positivo e potrebbe necessitare della vostra attenzione e del vostro buonsenso per operare le scelte giuste e corrette. Alcune coppie potrebbero separarsi di comune accordo disfacendo progetti e allontanandosi reciprocamente. I single si potrebbero sentire bloccati e arenarsi in situazioni anche banali e relativamente semplici. Ottime prospettive per risparmiare qualcosa e mettere da parte qualche somma interessante per il futuro. Non mettete mano al portafogli se non siete sicuri delle spese da fare. Buoni propositi per tutta la giornata, in serata penserai a un progetto che avevi in mente da tempo e cercherai di realizzarlo. Mettetevi al riparo dalle cattive amicizie, grazie a un mercurio particolarmente negativo potreste rischiare molto a causa di amicizie sbagliate o comunque da tenere a distanza. Molte buone opportunità sono sfumate da poco perché non avete saputo darvi una regolata. Avete inseguito sogni e chimere che vi hanno lasciato a bocca asciutta e privi di senso realistico. Prudenza alla guida, purtroppo negli ultimi tempi vi sorprendete molto distratti. Rischio di perdere anche oggetti e valori. Fate attenzione che molti pettegolezzi sul vostro conto potrebbero presto tramutarsi in calunnia e diffamazione, non esponetevi inutilmente e cercate di colmare ogni lacuna che lamentano gli altri su di voi. Giove aiuterà alcuni concedendo la fortuna, quindi sarà bene almeno tentare qualche gioco, sempre moderatamente. Forse oggi potreste essere baciati dalla foruna e risolvere qualche piccolo problema. Inutile nascondervi che avete tutte le possibilità per conquistare la persona che vi interessa e che vi fa battere il cuore. Curate dunque di farlo nel miglior modo possibile restando solo e soltanto voi stessi. Il vostro temperamento solare in questa lunedì di fine gennaio, così magnanimo e coinvolgente, avrà modo di esprimersi in famiglia e nelle frequentazioni amicali, specie se siete nati in luglio. A lavoro anche oggi forse per gentilezza nei confronti di un collega che necessita del lunedì libera, ma più verosimilmente facendogli straordinari per guadagnare di più. Se vi siete ritrovati con una falla finanziaria o avete un mutuo pesante da sostenere, dopo aver acquistato un appartamento troppo pretenzioso non potete far altro che tamponare mettendo in gioco tutte le vostre forze. Non prendetela tragicamente, in fondo amate il vostro lavoro, specie se vi da potere o vi consente di esprimere i vostri talenti e la vostra creatività, i classici due piccioni con una fava. Amore ed eros. Gentili con la famiglia, soprattutto la frangia più anziana che ha sempre bisogno di qualcosa, il pagamento di una bolletta, la spesa o un po' di compagnia. Da piccoli da loro avete ricevuto molto, perciò vi sentite in dovere di ricambiare. Amatissimo anche il vostro cane a cui dedicate ogni lunedì almeno un paio d'ore per farlo correre al parco. Intanto vi fate quattro chiacchiere e se avete il cuore libero non è detto che grazie al vostro amico peloso, molto socievole soprattutto con i rappresentanti dell'altro sesso, anche voi non facciate l'incontro fatale. La memorabile carica dei 101 di Disney fluttua ancora nell'immaginario, sposi i cani, sposi anche i padroni. Date modo alla vostra tipica generosità di esprimersi al massimo. Sentite che la persona che adesso vi fa battere il cuore ha bisogno del vostro appoggio, della vostra comprensione, di tutto il vostro aiuto. Senza esitazioni vi dedicate completamente alla soddisfazione di questa sua momentanea necessità e ciò non vi pesa affatto. Una configurazione planetaria splendente e generosa spiana i vostri passi. Lavoro e denaro. Clu della giornata non solo se siete di turno, soprattutto se siete titolari di un'impresa e per voi tra conti, progetti, varie ed eventuali la professionalità è sempre al primo posto e, nonostante il vostro sia il segno del cuore, scavalca di gran lunga anche l'amore. Con i tempi che corrono in particolare, visto che qualche grana finanziaria tocca anche a voi, nonostante siate sempre così attenti a lavoriate al meglio per appagare i vostri clienti e non deluderli mai. Tutti, chi più, chi meno, risentono delle crisi mondiali. Neppure voi fate eccezione. Benessere. In ottima forma, ma attenti a non arrabbiarvi, cuore e circolazione restano i punti deboli del segno, ragione per cui l'alimentazione non deve essere mai troppo abbondante con una percentuale di grassi e sale piuttosto contenuta. Benone gli sport invernali ma senza strafare, con freddo e umidità il mal di schiena è un classico e di certo non vi fa piacere. Per lei, se vi avanza tempo libero e a voi stesse ne avete già dedicato abbastanza, vi ritagliate qualche ora per il volontariato, se dedicarlo agli animali o agli umani sarà una scelta soltanto vostra, l'essenziale è rendersi utili a qualcuno. Per lui, pomeriggio speso a far progetti, portandovi avanti sulle incombenze del lunedì, adorate il vostro lavoro anche se non remunerato adeguatamente, ma i soldi non sono tutto, fondamentale far qualcosa che piace, dove dare il meglio di se stessi. Colore delle emozioni, lilla. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 5, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.